Attenzione! Tensione dietro le quinte di Ballando con le stelle. Secondo le indiscrezioni di D'Agospia, Millie Carlucci si troverebbe ad affrontare una situazione delicata nel suo celebre show danzante di Rai 1. Proprio per questo motivo, Sonia Bruganelli ha commentato la soffiata. Concorrente snoba Ballando con le stelle? Scoppia il, caso, Sonia Bruganelli interviene, attenzione al generale. Attenzione! Tensione dietro le quinte di Ballando con le stelle. Secondo le indiscrezioni di D'Agospia, Millie Carlucci si troverebbe ad affrontare una situazione delicata nel suo celebre show danzante di Rai 1. Proprio per questo motivo, Sonia Bruganelli ha commentato la soffiata. Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta? Scrive D'Agospia nella sua rubrica, a lume di candela. Secondo il popolo del web, la concorrente capricciosa potrebbe essere Sonia Bruganelli. Pronta la replica di Sonia Bruganelli? A sto giro io non centro niente. 10 punti in più per la bruga e la sua ironia, Millie Carlucci parla dei concorrenti. Tra poche settimane partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle, e Millie Carlucci, in una intervista a Il Messaggero, ha svelato alcuni dettagli sui concorrenti. Sono 13 in tutto i personaggi noti che si cimenteranno nelle sfide a colpi di ballo sulla pista del programma di Rai 1, anche se l'ultimo una donna sarà svelato solo a breve. I concorrenti di Ballando con le stelle ufficiali e finora resi noti dal profilo social della trasmissione sono, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furcan Palali, Tommaso Marini. A loro, come detto, si affiancherà un tredicesimo volto noto. Nel corso dell'intervista però, Millie Carlucci ha parlato di quelli già confermati, svelando chi sarà il più, peperoncino. Le bellissime, Guaccero e Nargi. E l'attore turco, Palali, sta imparando l'italiano. Il vero colpaccio, a suo dire, è però Alan Friedman, molto simpatico, un battutista sopra le righe. Luca Barbareschi sarà colui che farà, guai, durante l'edizione? Al momento Millie Carlucci preferisce non esprimersi. Sospendiamo il giudizio a priori su di lui, ci sorprenderà. La conduttrice ha anche parlato di Sonia Bruganelli, volto Mediaset, e di come abbia fatto a convincerla. Ci conosciamo da anni, non avevamo mai fatto cose insieme. C'era la voglia. Poi ha svelato un retroscena anche sui cugini di campagna, i quali, ha spiegato, balleranno, tutti insieme. Vedrete come, mentre sul concorrente più competitivo non ha dubbi. Ossimi, da morire, vuole vincere, più di Federica Pellegrini, lei è la divina. Dovrà essere all'altezza della sua fama, l'aspettano tutti al barco.